Sono ad oggi 53 le domande pervenute per l'assegnazione delle case della regione Abruzzo agli spollati terramani. Adesso la situazione passa nelle mani dell'Ater. Cosa dovete fare? Sì, dopo la graduatoria stilata dal Comuni Teramo, adesso in attesa di ottenere delle determine operative, se vogliamo, da parte della proiezione civile, procederemo all'acquisto di tali alloggi. Naturalmente facciamo riferimento ad alloggi destinati a coloro che hanno subito una inagibilità in classe E, dando la precedenza a coloro che in questo momento sono strutture ricettive. Il dato paradossale, se vogliamo, è che l'offerta in questo momento è rimasta superiore rispetto alla domanda. Perché secondo lei ad oggi, tra virgolette, poche richieste? Beh, il dato è, se vogliamo, negativo perché l'offerta è superiore rispetto a quelle che sono state le domande. Evidentemente non è stata svolta una importante azione di sensibilizzazione nei confronti di queste persone con la quale si poteva in qualche modo far capire della opportunità che potevano avere in quanto veniva concesso loro la possibilità di poter scegliere un alloggio nell'attesa di poter rientrare nelle loro abitazioni, che comunque resta l'obiettivo principale e fondamentale. La tempistica per l'assegnazione delle 53 richieste? Adesso la procedura è la seguente. Una volta che abbiamo ottenuto tutta la documentazione della proiezione civile, l'Ater, in questo caso io, in qualità di legare rappresentante protempore, di concerto con gli imprenditori, dovremmo prevedere appunto al rogito notarile che consente il trasferimento della proprietà presso il patrimonio immobiliare Ater. Successivamente, partendo da quelle che sono le curatorie del Comune di Teramo, si procederà all'assegnazione. Grazie a tutti.